Sì, sicuro? È stato davvero facile, signora direttrice. Sì, sì, ma è un tipo una macchina per fare scultura e basta di sale, no? Sì, serviscono gli ingrati da una parte, in un attimo un tabulato lo esce dall'altra. Devo contrarre qualcosa. Sì, serviscono gli ingrati da una parte, in un attimo un'altra.